Ma boia raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video, io sono Erbacce ed oggi basta dextorici col pekka, oggi un classico pekka riete? No 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 no, oggi 2.6 pekka domatore, ma non il classico 2.6 mettendo il pekka al posto dell'ice golem, bensì proprio un 2.6 con pekka domatore, come? E ve lo faccio subito vedere. Questo è il mazzo che andremo a giocare nel video di oggi, lo andremo a giocare ovviamente in Lega 8 quindi con le carte al 15, tutte le partite che ho fatto fino al punto in cui siamo adesso le ho praticamente fatte negli ultimi video. Quindi stiamo facendo questa scalata di inizio season assieme, andate per recuperare i video e vi ringrazio ancora per il supporto incredibile che mi avete dimostrato perché tutti gli ultimi 4 video hanno superato i 1000 like ragazzi, veramente non succedeva da mesi quindi se dovessimo continuare così piango. Comunque, questo è il mazzo del video di oggi, dobbiamo maxare due carte, il cerbottaniere lo maxo perché mi piace molto, si gioca nei mazzi bait che sicuramente vi riproporrò durante la stagione perché si giocheremo anche qualcos'altro, non giocheremo solo pekka, anche se per il momento a me il pekka è una carta che è sempre piaciuta adesso che ha ricevuto l'evoluzione, era il momento che aspettavo da tanto tempo per farci tutti questi video. Quindi andiamo qua ad maxare il cerbottaniere, invece lo spirito del turante lo vado a sostituire con lo spirito del fuoco che ho invece li ha maxato, rimane ovviamente 2.6, il deck l'ho preso dal video che ha fatto Oyasu, quindi ho preso spunto da lui, dal migliore direi per il video di oggi. Quindi mettetevi godi che iniziamo! Andiamo con la prima partita, pekka è voluto domatore 2.6, potremmo subito essere contro pekka perché il nostro avversario ha il pass, intanto iniziamo con uno spirito del fuoco, cerchiamo di capire il suo mazzo, scheletrini quindi forse non avrà pekka, adesso sicuramente capiremo meglio andando con il nostro domatore, potrebbe venire arco x ragazzi, io non ci credo. Prima partita con pekka domatore 2.6 contro arco x, ok, ok, allora giochiamo con la tronco per ciclare, qui senza big spell sarà complicata, e avesse avuto una bella terremoto sarebbe cambiato tutto regà, ma sarebbe stato troppo facile con un classico domatore terremoto giusto? Comunque l'abbiamo ciclato eh, lui deve ciclare ancora due carte, adesso una prima di avere la tesla, furia qua, furia qua regà, furia qua, furia qua, domatore infuriato subito, se lui va di arco x abbiamo il pekka, non ha neanche gli spedri in cycle da fare sul nostro pekka, quindi in teoria questo pekka dovrebbe essere ottimo là sull'arco x, ok, ha giocato il cavaliere per proteggerselo quindi dobbiamo fare ancora altre difese, merda ragazzi, quell'arco x connetterà a torre inevitabilmente, possiamo solo fare così per evitare un po' di danni, beh dai in realtà va bene, difficilmente potevamo difendere meglio di così, avrei forse potuto fare una tronco subito su quel cavaliere, ma non è andata male adesso abbiamo il pekka voluto, il pekka è voluto regà, in faccia, ogni volta che fa arco x potrebbe essere ottimo perché qualsiasi truppettina metta per proteggere il pekka, per proteggersi l'arco x dal pekka, il pekka si cura, quindi potrebbe essere veramente ottima come cosa, qua giochiamo un cervo ottenere dal fondo, perché il mio pekka regà lo devo ottenere soltanto per quando gioca l'arco x, se lo giocherà, andiamo con un domatore qua, ok, il suo arco x dovrebbe essere distratto dal mio domatore per un attimo, domatore che non hitta purtroppo ma non è un problema, oscio però perché, no raga non devo fare la furia che si curava, ho sbagliato a fare la furia probabilmente, no non ho sbagliato alla fine è bene che arrivi subito sull'arco x, in questo caso era bene che arrivasse subito sull'arco x, occhio perché quello si cura regà ghillando l'arciere, non dovrebbe essere sufficiente la sua difesa in questo caso, lo spirito del fuoco dall'altra line hitterà, perché deve pensare a difendere esattamente il pekka che si stava curando, io ho detto raga che il pekka è voluto in questa partita può essere impedibile, ha fatto la tronco quindi andiamo con un push qua con il cerbottaniere, perfetto, andiamo anche qua con una tronco da parte nostra, lo spirito del fuoco ha permesso di difendere molto bene a lui il nostro domatore, comunque andiamo adesso con il pekka qua, proviamoci uno spirito del fuoco, pronti con, perfetto, andiamo col cerbo di qua che hitta l'arco x, da una distanza incredibile, guardate gli scheletini là raga, mamma mia per quanto, comunque deve difendere il cerbottaniere, perfetto, abbiamo un buon vantaggio, non abbiamo big spell, quindi lui non ha ancora capito secondo me che non abbiamo big spell, perché potrebbe raga seriamente iniziare ad andare di fireball cycle, la cosa buona è che non ha ovviamente gli scheletrini evoluti, quindi questa sicuramente è una cosa buona per noi, andiamo qua con furia per tronco che riusciamo a chidare gli arcieri prima che prendano una vaglia incredibile, anche se oramai l'hanno presa, lui deve comunque difendere la con una tronco, noi dobbiamo fare un altro pekka, lui penso che quest'arco x l'abbia fatta a 6 di lisir, quindi andiamo subito con un pekka, spirito del fuoco ottimo, spirito del ghiaccio, tutto quanto raga furia per gli scheletrini che non ha neanche, ok l'ha giocata adesso, perfetto, stiamo difendendo molto bene, il pekka è in faccia all'arco x, col fatto che non abbiamo furia e tronco, ci permette sempre di difendere alla grande, il problema sarà nel momento in cui realizzerà, il nostro avversario realizzerà che non abbiamo big spell, però il dovatore è tato, il dovatore è tato ed è come se praticamente, è come se fossero due danni di fireball da parte del nostro avversario, che secondo me nel per 3 dovrebbe iniziare a tirare, una volta che appunto riuscirà a capire sta cosa, raga mi sa che qua andiamo a vincere, come cavolo difendere con un pekka evoluto che, mio dio ragazzi, mio dio, ok il pekka evoluto in questa partita ha veramente cucinato, niente male la prima partita ovviamente ne andiamo a fare altre adesso, il deck che vedete sotto è il deck che ho giocato nel video di ieri, andatevelo a recuperare anche per chi vi ho lanciato una sfida a fine video che dovessimo chiaramente rispettere, dovessimo raggiungere la sfida che vi ho lanciato, rispetterò la mia parola, comunque Seconda partita siamo contro Ramiro, ok lui mi fa, lui mi fa questo gesto qua, mi fa questo gesto qua, mi intimorisce un po' eh, un po' devo essere sincero mi intimorisce, non po' che mazzo ha Ramiro, allora intanto noi secondo me un dovatore possiamo fare sì, anche perché ho appena giocato le frecce, pronti con la furia, barbari, barbari, pistelli, frecce, io mi immagino un gigante cimitero, non andrei a giocare il pekka qua raga, perché lo potrei fare sui barbari, assolutamente sì, per ciclare anche l'evoluzione, ma io sono abbastanza sicuro che lui abbia il gigante, quindi Oddio, certo che noi il pekka lo ciclavamo in un attimo eh, noi il pekka lo cicliamo veramente in un secondo, l'avrei potuto fare forse, forse l'avrei potuto fare, comunque va bene anche così che non rischiamo nulla Allora qua andiamo a giocare una tronco, andiamo a fare uno spirito di ghiaccio e andiamo a fare un altro cerbottanere, non ha ancora le frecce ragazzi, guardate quanto cavolo cicla questo mazzo Guardate, gli manca ancora una carta le frecce eh, cioè non riesce a stare al passo col nostro cycle Ok, anche perché ha barbari che è scheletro, ovviamente ha un deck più costoso del nostro, non ha ancora i barbari, quindi andiamo col domatore Ah ok, pekka, attenzione che non la zappi in cycle raga, l'ha fatta prima sul cerbottaniere, ora non so quali altre, ha le frecce ovviamente che questo lo sappiamo Non è l'esì per fare le frecce però raga, ha fatto questa cosa, non è l'esì per fare le frecce, quegli scheletrini cucinano come non mai Perfetto, l'ha dovuta fare molto dopo, spirito di ghiaccio qua, abbiamo preso un bel po' di danni, sì, sì abbiamo preso un bel po' di danni Ma andiamo subito col domatore prima che abbia il risir per fare i barbari, mettiamo anche uno spirito del fuoco Perfetto raga, perfetto, sono tantissimi danni questi, deve fare una zappi, cosa andiamo a fare noi? Andiamo a fare scheletrini e un altro cerbottaniere appunto per sfruttare il vantaggio del risir E guardate quanti danni fa quel cerbottaniere Allora questa partita la sto giocando molto bene, senza diciamo rendere protagonista al pecca fino ad ora Però comunque io cerco di giocarmela sempre al meglio e in questo caso secondo me era corretto non giocare pecca Anche se l'avrei potuto fare all'inizio sui barbari, se avessi saputo che anche lui aveva pecca e non gigante Come onestamente immaginavo dalle prime carte che aveva giocato Ok lo spirito del ghiaccio va a prendere la torre là Quanti cavolo di danni fa lo spirito del ghiaccio raga? Fa più di 152 HP, follia Giochiamo subito un cerbottaniere così riusciamo a ciclare un altro che può essere molto utile anche per difendere Perfetto che ha messo i barbari dall'altra lane Raga andiamo a giocare un pecca qua Spirito curante qua, scheletrini là così dopo stringiamo la zap Vediamo se ci serve una furia dall'altra lane No perché c'è pecca che si infuria Io penso che difendere non riuscirà a difendere Raga la strega mi ha un attimino scombustolato tutti i miei piani Però qua la tronca ha un ottimo value Considerate che lui ha un pecca evoluto da difendere Il cerbottaniere là ha praticamente pulito tutto Dovrà fare chiaramente il suo pecca lui Quindi noi siamo conci di questa cosa Andiamo a giocare una furia qua Vediamo se riusciamo a danneggiare il più possibile il suo pecca Così da ripartire con un altro pecca Ok Tronco buona qua Ci credo che la possiamo ancora vincere Forse potevo difendere un pochettino meglio Prima Ma la possiamo vincere ancora Qua la tronca è ottima Andiamo a giocare un pecca Lui giocherà le frecce appena potrà Lui gioca male comunque Lui qua ha fatto un brutto push Ok le frecce le ha giocate adesso Non ha praticamente fatto danni Come è giusto che sia Perché non ha fatto un buon push Quindi prepariamoci il cerbottaniere qua Andiamo anche col domatore Nonostante so che lui chiaramente ha il pecca Però abbiamo comunque un po' di vantaggio di riservo Quindi Infatti non lo gioca proprio il pecca Ma gioca i barbari E dovremmo riuscire almeno A quanto meno a dare una hit Sì una hit soltanto però Prepariamoci un pecca qua regà Potrebbe arrivare un push da parte sua di cimitero E infatti è così Giochiamo gli scretrini sulla strega Lui ha giocato una cimitero senza addirittura il tank E la zappa chiaramente non shotta il cerbottaniere A meno che non sia evoluta Guardate ragazzi quel pecca è rimasto full vita Quel pecca è rimasto completamente full vita Ok dobbiamo riuscire forse a fare un altro pecca Non sarebbe male No ok meglio di no Andiamo a giocare qua una furia Andiamo a giocare un altro cerbottaniere Cerbottaniere è la chiave di questa partita secondo me Andiamo a giocare il domatore C'è il pecca che si sta curando Andiamo a giocare una furia Ok Guardate il domatore infuriato regà Il domatore infuriato Ok due hit C'è il bottaniere che anche farà dei danni se non lo difende Perfetto Danni extra Vediamo cosa mette al centro Barbari Perfetto Andiamo subito col domatore Top Infuriamo per i pipistrelli Per la strega va benissimo lo stesso Alla fine la cimitero ha fatto più danni di quelli che mi aspettavo Ma anche noi abbiamo fatto molti più danni Quindi Non dovrebbe essere un problema Andiamo a giocare il nostro pecca qua Tronco Perché ok che sui sclettrini si cura regà Ma ci serve che Chiaramente Il nostro pecca non muoia Per far si che si possa curare Andiamo a giocare un domatore qua Furia Spirito del ghiaccio di qui Spirito Tutti gli spirini che possiamo E abbiamo vinto ok Ok Non era affatto semplice questa partita regà Perché appena ha tirato fuori la strega Praticamente Non ci ho capito più nulla Ma Spammando carte Siamo riusciti a vincere anche questa partita E si Non era affatto facile questa Guardate un po' il suo mazzo Aveva avuto il gigante Ancora ancora Però ragazzi Scheletro Strega Aveva sia zap che frecce Zap per i sclettrini evoluti Frecce per il cerbottaniere Chiaramente il nostro cycle era più veloce Secondo me Questa tronco e questa furia Ci stanno aiutando veramente Veramente tanto Ma noi andiamo avanti Non ci fermiamo con queste due partite E adesso giochiamo contro un giapponese Anche lui col pass diamante Primo avversario Se non mi sbaglio Con la torre del cannoniere Ok Lui va con un bombarolo Al ponte Che alla fine ci sta regà Perché È strano da vedere il bombarolo al ponte Come prima giocata Ma alla fine costa due di sin regà Quindi Ci sta a farlo al ponte Ok Lui potrebbe avere un log Perché io nel dubbio qua la centrale Me l'attivo con il suo spirito elettrico Tornato regà eh Se aspetta così è perché ha tornato In teoria non si attiva Ah no se l'attiva Se l'attivo Ok Ecco il pescatore che non ti può attivare La centrale Quando c'è il cannoniere Non E non con Con la tornato Ah perfetto Ottimo timing Pecca dal fondo per entrambi Lui ha Tornato Ok Non mi aspettavo questa Andiamo a fare un cerbottaniere Qua è una tronco Ah tornato Bombarolo Ram rider Perfetto intanto questo cerbottaniere Andiamo con gli sclettrini qua Perfetto che ci proteggono Il nostro pecca dal suo pecca Uh ragazzi Il mio spirito di ghiaccia è morto Come diavolo è possibile Comunque va bene così eh Io un domatore lo faccio qua Un domatore lo vado a fare Perché mi sa che gli manca ancora una carta Per Per la tornato Adesso la Dopo che ha fatto ovviamente il bombarolo Ok Sarà complicato questo match eh Sarà sicuramente complicato Però Si può cucinare secondo me Si può cucinare qualcosa Chiaramente la nostra Queen Condition del domatore E lui era tornato Ma il nostro cycle è più veloce Il nostro cycle è molto più veloce Quindi noi dobbiamo chiaramente Fare leva Su questo aspetto qua Qua andiamo ragazzi A cercare un po' di carte Ok lui utilizza la sua Ram rider Difensivamente Sul nostro cerbottaniere Quindi andiamo con gli sclettrini volute Con lo spirito di ghiaccio Inevitabilmente qua La sua Ram rider Hitterama è una sola hit Possiamo andare con domatore Più c'è il bottaniere Perfetto Così che noi facciamo fare la tornato Una sola hit Per un attimo Per un attimo Ne arrivava un'altra Per un attimo Ne arrivava un'altra Ma siamo in vantaggio ragazzi Di 19 HP Ma siamo in vantaggio Ok A lui mancano ancora Due carte Mi sa ragazzi Mancano ancora due carte Interessante che abbia cambiato l'in Con questa Ram rider Molto interessante Perfetto qua eh Possiamo andare a mettere gli sclettrini Domatore 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 No Non l'ho distratto in tempo Quello là Purtroppo ragazzi Sono danni che potevo evitare Questi eh Sono danni che avrei potuto Assolutamente evitare Però ottimo il pecca di là eh Ragazzi Facciamo la follia Facciamo la follia Doppio pecca Andiamo con questa follia ragazzi Doppio pecca E infuriamo tutto Se rimanesse il cerbottaniere in vita Sarebbe veramente ottimo eh Ragazzi Doppio pecca Ragazzi doppio pecca Dobbiamo fare la tronco per la gang di goblin No ok Ha fatto il pecca suo Comunque il domatore una hit la darà eh Quindi riapriamo la partita Secondo me il doppio pecca Lui l'ha sofferto Adesso dobbiamo tenerci il pecca Per la sua Ram rider Che andrà a giocare Quasi sicuramente Perfetto pecca di qua Perfetto pecca di qua Scheletrini Ok Andiamo qua con il cerbottaniere Spirito del ghiaccio un attimo dopo Così che salti in tempo Per non prendere la seconda hit Perfetto Ok Andiamo dall'altra line raga Lui farà la sua solita tornato L'ha sbagliata a sto giro Quindi una hit dovremmo riuscire a darla No neanche raga Questa tornato ci sta veramente complicando tutto quanto eh Ci sta complicando tutto quanto questa tornato Lui giustamente splitta Questo è un match molto complicato Ha fatto una buona Ram rider dall'altra lane Ottima la nostra tronco qua Abbiamo fatto un ottimo tronco Proviamo ragazzi qua un altro push Ma quasi disperato oramai Buona la furia Che dovrebbe permettere al domatore di ittare Un'altra No Cavolo l'avremmo riaperta con un'altra hit Con un'altra hit l'avremmo riaperta Io spero che invece in questo caso La sua Ram rider non riesca a dittare Ok perfetto Non ha ittato Quel pecca si cura la grande Vabbè che è praticamente pulbita già adesso Ma comunque si cura Ma comunque si cura raga Andiamo con tutto qua eh Andiamo con tutto quanto Ci andiamo proprio col cuore in questo caso Itta Sì Ancora un altro domatore Mi serve la furia Mi serve la furia Pecca muori Pecca muori Non è morto non ci riuso Itta Itta Ok Ha ittato il cerbottaniere Ok qua pecca da parte nostra Mi sa che al bombe nevo Eh lo sapevo Mannaccia la pittana Lo sapevo raga Lo sapevo Purtroppo lo sapevo Purtroppo lo sapevo Ma non siamo comunque riusciti ad evitare questa sconfitta Eh questa si poteva giocare meglio Devo essere onesto Questa si poteva giocare meglio Ma andiamo Con un quarto match Con pecca Tomatore 2.6 Ok Duchessa Abbiamo praticamente Giocato contro tutte le torri esistenti sul gioco Due principessi Un cagnieri Adesso la duchessa E lui forza pecca Un altro pecca ragazza Dove l'ha tirata sta zap? Mio man Dove l'hai tirata sta zap? Dove cavolo l'hai tirata sta zap? Allora qua aspettiamo Che il suo fantasma Ittitore Facciamo il cerbottaniere Così che limitiamo i danni del fantasma E in più il cerbottaniere Ci accompagnerà dall'altra lane Col pecca Ok ha sbagliato anche L'ariete Raga sta sbagliando tutto Purtroppo il Il nostro amico qua Penso che gli facciamo tre corone Raga adesso eh Cioè quel pecca Non credo lo possa difendere Andiamo ad infuriarlo Dovrà fare un fantasma in ritardo Esattamente Quindi comunque Difende Ma alla meno peggio Centrale a 2000 HP eh Centrale a 2000 HP per lui Incredibile qua Allora Per il suo Ok andiamo a fare così Andiamo a fare lo spirito del ghiaccio qua E andiamo a fare gli scheletrini sul fantasma E andiamo subito con un donatore Raga che è un analisi per fare il pecca lui Perfetto Andiamo anche con una furia Così facciamo più danni E il spirito del fuoco Che dovrà fare una bandita Così lo spirito del fuoco O le wiz Perfetto Vai salta Non ha saltato Ma comunque è ottimo eh Torre a 700 HP Torre centrale a 700 HP Siamo ad un passo da fare la torre centrale al nostro avversario Ok scheletrini Più domatore Se fa il pecca Raga quegli scheletrini si moltiplicano eh Quegli scheletrini si moltiplicano Attenzione Intanto tronco Scheletrini che si moltiplicano Come vi avevo detto Ok non può più fare niente Anche perché non ha Zapping Cycle Il fantasma di solito È sempre molto tonto Sul Sugli scheletrini Infatti non sta riuscendo ragazzi A dittarli tutti quanti E andiamo a fare tre corone Ok qui ci siamo rifatti dire alla grande Dalla sconfitta di prima Quindi siamo a tre vittorie È una sconfitta con Pecca domatore 2.6 E siamo al quinto gradino Della Lega 8 Siamo quasi in Lega 9 Facciamoci un'altra due partite Siamo contro adesso un cinese Poco fa abbiamo giocato contro un giapponese Che tra l'altro ci ha battuto Ah raga ma c'è una torre con scritto clash Non ne ero a conoscenza La sua torre ha scritto clash in basso Non sapevo che esistesse una torre Con scritto clash Ve lo giuro Ok potrebbe avere Pecca anche lui Con il Dark Prince Solitamente si utilizza fantasma E non Però potrebbe Io qua un Pecca lo vado a giocare Visto che lui ha fatto Una fireball sul cerbottaniere Andiamo a giocare il nostro Pecca E andiamo a ciclare L'evoluzione Perfetto Intanto ragazzi io vi dico Date un'occhiata Se state guardando questo video Senza essere iscritti al canale Perché Non vi costa nulla Di iscrivervi E invece per me È un gran supporto Veramente E in più Se state vedendo il video E siete arrivati fino a questo momento Del video Probabilmente Vi sta anche piacendo Quindi Iscrivendovi Non vi perdete i prossimi Anche perché Carico spesso Pecca qua ragazzi Che va a difendere Da entrambe le lane Perfetto Hitta quel Prince Così ti curi Eh no purtroppo c'è il Pecca Avrei dovuto mettere Il mio Pecca Sul suo Pecca Qua ho sbagliato Avrei dovuto mettere Il mio Pecca Sul suo Pecca Anziché sul Prince Comunque deve difenderlo Perché alla fine Il Prince La hittata e si è curato Infatti È costretto a fare una felice Questo sarà un game Molto interessante Perché lui Ha un buon deck Ma è un deck Molto costoso E noi abbiamo un deck Stracycle Quindi sarà un match Divertente Secondo me Allora andiamo Col domatore qua Che penso andrà a difendere Col Dark Prince Lui Ok no Va a fare un altro Pecca E a noi va benissimo In teoria Perché possiamo fare Gli scrittini evoluti E poi possiamo fare Il nostro Pecca Quindi andiamo a fare Prima il Cerbottaniello Per non liccare Andiamo a fare subito Gli scrittini Ah lui ha Al bombarolo Purtroppo lui ha Al bombarolo Qua niente Andiamo a fare il Ah Fireball E Cerbottaniere Sì la Fireball L'aveva fatta anche all'inizio Se vi ricordate Mettiamo lo spirito di ghiaccio Proprio prima che Dia l'ultima hit Fatale Sul nostro Pecca Perfetto Ok Ok interessante Si fa interessante La situazione Giochiamo un domatore A sinistra Perché nel mente Potrebbe fare un Prince Dall'altra lane Dove ha preso più danni No ok L'ha fatta a sinistra Che non ha Un senso logico Però comunque Il domatore hit E va bene così Andiamo col Cerbottaniere Lo facciamo alto Perfetto L'uva comunque di frecce Ovviamente E adesso noi possiamo fare il Pecca Anche a sto giro Il Pecca ha preso la La truppa che non doveva prendere E in questo modo Rimane con pochissima vita Cerchiamo comunque di ciclare Un altro Cerbottaniere Perché lui non ha ancora le frecce E se dovesse fare una Perfetto eh Ottimo domatore intanto Una hit del mio Pecca Sul suo Pecca Perfetto Cerbottaniere che lì Danneggerà comunque Il suo Pecca Che è ottimo per noi Mettiamo il Pecca Al centro Vediamo se farà un Prince Dall'altra lane Me lo immaginavo Sprinto il ghiaccio qua Scheletrini di qua Pecca che adesso si gira Andiamo con un altro domatore Vediamo se arrivano le frecce Ma non arrivano Sarebbe stato ottimo Andiamo comunque con una furia Che daremo sicuramente Una hit in più Con il nostro domatore Perché deve fare il Pecca E non aveva subito l'isir Ragazzi il domatore infuriato Il domatore infuriato è follia Il domatore infuriato è pura follia Ok Pecca qua da parte nostra Andiamo con una tronco Se riusciamo a fare il bombarolo Lo spirito del ghiaccio sul bombarolo Quest'ultimo morirà Perfetto Lui deve fare le frecce adesso Possiamo fare il L'azza Lui ha pure l'azza Giustamente Lui ha 3 spell Lui addirittura 3 spell L'aveva già giocata però Mi meraviglia il fatto che avesse Fireball Freight Non aveva win condition Per chi non l'avesse capito Lui aveva Pecca double prince Con 3 spell Pecca double prince Con 3 spell Praticamente il deck Che si gioca col gigante Lui ha deciso di mettere Pecca Ha deciso lui Non vi consiglio il suo mazzo Piuttosto vi consiglio il mio Non vi consiglio neanche il mio Chiaramente regà È un deck un po' meme Però regà sta funzionando Cioè comunque Abbiamo vinto 4 partite su 5 E quella che ho perso L'avrei potuto giocare meglio E siamo in Lega 8 Al terzo giorno di stagione Quindi I avversari Non dovrebbero essere male Dovrebbero essere player Da circa 1800 2000 medaglie Se non di più di record Allora Perfetto Oggi abbiamo giocato Con tutti i player asiatici A quanto pare Un altro arco x Ti prego no Che è l'ultima partita del video Un altro arco x Non lo sopporterei Potrebbe seriamente essere arco x Per le prime due carte Che ha giocato Ok Arriva anche la tronco La probabilità che sia arco x Aumenta sempre di più E con E con essa anche la mia preoccupazione Tesla adesso Perfetto E arco x ragazzi Ottimo È molto complicata questa partita Prima l'abbiamo vinta Il back evoluto Penso che Contro arco x Sia proprio stato La situazione in cui Ha preso più valore Delle partite che abbiamo giocato Fino Fino ad ora Il problema è che dobbiamo anche Ciclarlo Non ha cavaliere ma Ha Il golem di ghiaccio Molto interessante Oh Splito il fuoco entra Sono i primi danni Da non sottovalutare Ragazzi manca ancora una carta Per Per la Tesla Cannone a rotelle Ok sono confuso Sono confuso Sono molto confuso Comunque non l'altro Un coin cycle Quindi Ok sono comunque confuso Sono comunque sempre più confuso Ho aspettato a fare gli scheletrini Perché sapevo che lui Già di per sé avrebbe giocato qualcosa Per Per farmi Per bloccare il pecca Ottimo Al fine lo spirito del fuoco però Devi difendere quel pecca Raga eh Perfetto Raga non ha risir per la Tesla Mi sa Andiamo a fare un domatore Anche se è dall'altra lane Lo andiamo comunque a fare E lo vado anche ad infuriare Raga eh Può sembrare una follia Raga ma non ha risir Può sembrare una follia Ma Infatti non aveva risir E l'abbiamo costretto A fare una fireball Sul domatore Chiaramente L'ho giocato a destra Perché a sinistra C'erano già gli arcieri Quindi ok Io non avrei risir Ma L'avesse giocato In cui c'erano già gli arcieri L'avrei mandato su Su una difesa Che già aveva in campo Mi sembra anche Abbastanza evidente Allora ok Sono degli ottimi danni Siamo in vantaggio Di quasi 1000 HP Quindi gestiamola bene Ma sapete che io adesso Sono abbastanza tranquillo Sono abbastanza tranquillo Perché Dal match di primo Ho visto quanto Il pecca è voluto Si ha portato in questo game E quindi secondo me Lo possiamo vincere Io qua una furia La gioco sempre Perché il domatore infuriato Regà Ho visto che È una cosa assurda Non so perché mai nessuno Guardate cos'è regà Non so perché mai nessuno Ha pensato di giocare Il domatore infuriato In realtà qualcuno Me lo ricordo Qualcuno è Gaggi Se avete visto Un watch party Di molto tempo fa Sapete di che cosa Sto parlando Andiamo comunque qua Con una furia Ocio che questo pecca Però Mi sembra che Ok questo pecca L'ha gestito bene lui Ma prendiamo danni Ma neanche troppi Quindi non è la fine del mondo Ocio però Che gioca subito Un altro arco X In teoria Bene Siamo sempre comunque Con un buon vantaggio Cioè può tenere di là E dovrà difenderlo Uh lo spirito è entrato Nice È veramente ottimo Che si è entrato lo spirito Molto molto bene Andiamo qua con un cer Oh che buona tesla Che ha messo lui Qua ha messo veramente Una bella tesla Non so se L'abbia messa volutamente In ogni caso Non abbiamo il pecca voluto Per un attimo Abbiamo il pecca voluto Anche se quella tesla In agguato Un po' mi preoccupa Un po' mi preoccupa Per il momento Non sta ittando Comunque Adesso chiaramente si Però Ottima tronco Ottima tronco E riusciamo a far fuori Questo arco X Ragazzi il prossimo Dovremmo difenderlo Senza il pecca E voluto Comunque Mal che vada Noi cicliamo Quanto è più tronco Possibili Sull'arco X E andiamo a difendere In questa maniera Il Il suo Il suo arco Appunto Ok Qua sapevo che avesse tesla Comunque So anche che io Lo possa oscillare Quindi se giochiamo Deve difendere Domatore Lo deve difendere Ok Gli scheletrini Hanno fatto Dagna in sufficienza Andiamo comunque Subito con un altro Og Osho che Gli manca ancora Una carta alla tesla Andiamo con la furia Andiamo con la furia Andiamo con la furia Ha ittato ragazzi Ma il domatore Infuriato è la sorpresa Di questo video C'è qualcuno di voi Nei commenti Che utilizza domatore Con la furia Ma perché è fortissimo Regà Cioè domatore Con la furia È una sorpresa Veramente È una sorpresa Il domatore Infuriato Itta Sempre e comunque Poi chiaramente Noi siamo riusciti Più volte Ad obciclare Il nostro avversario Dalla tesla Grazie al nostro Cycle Velocissimo E questo pazzo Ragazzi Per assurdo E quasi Anche approvato Ci mancano solo Tre partite Alla Lega 9 Ragazzi Ma se io ve le facessi Se io queste tre partite Ve le facessi Noi ci arriviamo A 1500 like Ammesso che le vinciamo Tutte e tre Perché comunque Non è detto Che le vinciamo Tutte e tre Anche perché Gli avversari Non sono malvagi Pidatevi Tant'è che questo Ha pure l'emblema Della CRN 2021 Quindi comunque È un po' una follia Dopo che abbiamo già fatto Penso 5 vittorie Di una sconfitta Ma Sono un pazzo Sono un pazzo E continuiamo Ok lui pecca Raga Lui mi sembra abbastanza evidente Che abbia pecca Ok qua dovremmo essere riusciti A difendere la bandit Una hit Una hit Potevo evitarla Chiaramente Se avessi fatto gli scheletrini Perfetto qua Fammi la zap sui scheletrini Spirit elettrico Ok Quindi lui ha il classico pecca Col mago In teoria Dovrebbe avere il pecca col mago Noi potremmo giocare Adesso il domatore Dall'altra lane Perché Penso proprio Devo giocare il suo pecca Sul mio pecca Quindi il domatore Dall'altra lane Può essere ottimo Perfetto Due hit Da parte del domatore Sono buone Lui ha il cannoniere Quindi Siamo un bel po' In vantaggio di danni Perché Col fatto che il cannoniere Chiaramente Inizia la partita Con meno hp Andiamo con uno spirito Del ghiaccio Perfetto Scheletrini Che potrebbe predictare Quella zappa Però osho Non l'ha predictata Quindi perfetto Dobbiamo però fare anche Una tronfuria E poi tronco Non so se riesco ad evitare La hit La hit probabilmente no Ma va bene Una hit va bene anche perché Se adesso dovesse fare lui Il Perfetto Raga non ha la zappa in cycle E neanche lo spirito elettrico Quindi questa riede È completamente sbagliata Voi considerate che C'ha il cannoniere Quindi dovrà difendere Tutti questi scheletrini Col cannoniere Deve fare quindi il fantasma Ovviamente E non E c'è il disco Che il fantasma Non gli ha hit tutti Intanto non andiamo Col domatore dall'altra lane Guardate che succede Con quegli scheletrini Guardate che succede Con quegli scheletrini Guardate che succede Con quegli scheletrini Succede quello Che avevo pronosticato Che il fantasma Quasi mai riesce A dittarli tutti E infatti io penso Che il nostro avversario Potrebbe già quitare la partita Vediamo se riesco Anche a fare un bel pro tip Qua No l'ho messo Troppo L'ho messo troppo a sinistra Avrei potuto attivare La centrale Avrei potuto chiudere In bellezza In game Ma l'ho messo troppo a sinistra Dovevo metterlo più centrale Con lo spirito del fuoco La bandit Avrebbe lasciato Sullo spirito del fuoco E poi Ci avrebbe attivato La centrale Comunque va bene così Ok lui ha il mago Attenzione perché Il mago ci cucina Proprio alla grande Infatti le gaio Inizio già a fargli Una tronco Ah ok Ha fatto il pecca L'hier Quindi Il problema non si pone Il pecca l'ha fatto L'hier Tra il mago Provaremo un cerbottagnere qua Facciamo così Sapete che possiamo Fare un altro pecca Sì io lo faccio un altro pecca Perché lui altrimenti Potrebbe spommare anche Con una bandita a sinistra Quindi andiamo con un altro pecca Tanto di là Abbiamo sempre un pecca Fulbita Che ci darà una grossa mano Tronco qua Per togliere lo scudo del mago Tronco ragazzi Perfetta Che ha praticamente Tolto anche un tempo di gioco Al Al suo Al suo pecca E abbiamo difeso veramente bene Un altro pecca Evoluto da parte nostra Per bloccare tutta la lane E direi Che andiamo a vincere La partita In questo game Non ho fatto nessun domatore Infoiato Quindi raga Dove per forza farne uno proprio E adesso Non ci fermiamo qua Non ci fermiamo Tre colonne anche in questa partita Non ci credo Ci mancano due vittorie Alla Lega 9 Se riusciamo raga A farle 1500 like Mi raccomando E iscrivetevi Al canale Ragazzi Che siamo A Il 75% Per i 100.000 iscritti Che per me sarebbe Veramente un sogno Quindi Teniamo vivo Questo sogno E l'unica cosa Che dovete fare E se state vedendo Questo video Senza essere scritto Al canale Quindi se YouTube Vi ha mandato Questo video Nella home Iscrivetevi Ok Spaccamuro Più cavaliere Spaccamuro Più cavaliere Dovrebbe essere Un miner cycle Vediamo se arriva Un miner adesso Che Dovremo andare a giocare Il pecca Non arriva Quindi andiamo a fare Piuttosto un domatore così Dovrebbe avere lui La bombardiera Esattamente E dovrebbe avere Anche più bistrelli Lui ha un deck Molto old school Alla morten Raga Deck Alla morten Per il nostro avversario Io qua linko Perché Ok perfetto Vediamo se è arrivante Se arrivano anche Gli spaccamuro Gli spaccamuro Perfetto Arrivano anche Gli spaccamuro Me li aspettavo Il 3 alla tronco Basta raga qua Perché il mine Era pochi HP Ok Io direi che poi Possiamo giocare Il nostro primo pecca Possiamo giocare Il nostro primo pecca L'aspettiamo Che un lanciare Il titore E poi andiamo a fare Lo spirito del fuoco Perfetto Prendiamo una sola hit Se avessi fatto Lo spirito del fuoco Su tutti e tre i lancieri Quando ancora Uno non hitava la torre Lo spirito del fuoco Sarebbe stato shottato Dai lancieri Allora Potremmo fare Il cerbo ottenere qua Anche solo alla tronco Ovviamente Andiamo quindi a fare una furia Perché tanto so Che quello verrà tolto Alla tronco Esattamente Adesso giocherai Gli spaccamuro Per tirarmi dietro Il Esattamente Peccato che Il predict Non è riuscito Di nulla Il predict Non è riuscito Di nulla Comunque mi sa che qua Gioca i pipistrelli Quindi andiamo con Domatori più spirito No ha giocato la bombardiera Giustamente Peccato perché C'era un bel predict L'ha eh Avevo fatto spirito del ghiaccio Più tronco Che sciottano gli spaccamuro Però purtroppo erano evoluti Ed uno è rimasto in dita Siamo in leggero svantaggio In questo momento Questa sarà sicuramente Più complicata Rispetto alle altre Perché Innanzitutto perché Lui mi sembra che Sala gavi Lui mi sembra che Sala gavi come giocatore E poi Anche e soprattutto Perché Anche lui ha un Dex cycle In questo caso Uno sarebbe entrato Se non avesse fatto la tronco Quindi Evitiamo di prendere Ulteriori danni Che già siamo in svantaggio Ok andiamo con Un domatore dall'altra E andiamo con Un cerbottaniere al centro E qua ovviamente Andiamo con una furia Perché ok che Il pecca si cura Ogni kill Ma le kill le deve fare Regà come dico sempre Ok Lui non sta mettendo Sti cavolo di pistellini Ragà L'abbiamo uccidato però Mi serve la furia 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 Ecco la furia Ecco la giocata ragazzi Che sta comandando Questo video Domatore fu furia Siamo in vantaggio Oh mamma mia Stava per rittare Stava per rittare Ottimo qua C'è il bottaniere Sul Sul suo miner E ottimo Lo spirito del ghiaccio Sui pisterelli E noi possiamo ripartire Con un pecca C'è il bottaniere là Che ha fatto fuori Due lanceri Quindi il terzo Possiamo anche Permetterci di ignorarlo Anche se ragazzi Avendo un 2.6 Posso sempre cercare Di difendere tutto Perché Ho tutte le truppe Che costano uno di lisir La giochiamo una furia Uh ha giocato la tronco Di cycle Quindi qua il cerbottaniere Può essere ottimo Andiamo a fare un pecca qua Perché potrebbe arrivare Una bombardiera o dei lanceri Arriva invece il miner Ok Il pecca comunque ragazzi C'è stato d'aiuto Attenzione perché lui Adesso ha un doppio pecca Da difendere E noi andiamo col domatore Dall'altra linea Per delle ovvie ragioni Andiamo pronti Con la furia sui pistrelli Eccola qua Eccola qua la furia sui pistrelli Eccola qua la furia sui pistrelli Domatore infuriato Col pecca che tanca il domatore In tutto questo ovviamente Col pecca che sta Tancando il domatore Pecca che adesso si cura Andiamo comunque a fare una tronco Per velocizzare Il tutto Andiamo ancora con una furia Sul domatore e sul pecca Lui dovrà fare per forza Di cose la tronco Il pecca si cura Killando anche la bombardiera Regala il pecca è voluto e forte Allora in questo game C'è da dire che Col fatto che lui aveva lanceri Molto cycle Aveva molte occasioni Per curarsi Però secondo me Il pecca è voluto e forte Secondo me Il pecca è voluto e forte Comunque guardate Stiamo giocando con avversari Da 2200 medaglie L'ultimo L'ultimo addirittura 2400 di regole Ve l'ho detto Comunque Sono avversari sopra la media E li stiamo cucinando Con un 2.6 Og Domatore cycle E ci manca un game Per la Lega 9 Ma sai che Secondo me Posso chiudere il video qua Ma ti pare E dai su E dai su Siamo a un game Dalla Lega 9 Che fai? Non te lo fai il game? Oh Addirittura non ci sta più Trovando partite Non ci sta più trovando Ok ci ha messo Una decina di secondi Ci ha messo Una decina di secondi Potrebbe essere Il nostro ultimo game Questo Per arrivare in Lega 9 Ragazzi supportate Questo video Perché Se lo supportate Il video Per arrivare In Lega 10 Sarà un video XXL Dove proveremo A raggiungere la Lega 10 In un solo video Sempre questa settimana Quindi sempre la prima Settimana di stagione Ok C'è bottaniere purtroppo Penso che andrà davanti Al pecca Comunque buon inizio Perché lui ci ha dato Subito un'occasione Per giocare La nostra evoluzione Andiamo con un domatore Dall'altra line Uh raga Questa mi sa complicata Questa Qui dobbiamo fare Un miracolo Ci ha proprio dato Il game della morte Per Per chiudere il video Maiali cycle Con tesla evoluta Con principino Mamma mia Dobbiamo fare un miracolo Qua Senza alcuna spell Allora Se lui se la cava La vedo molto complicata Spero che sbagli Un po' di maiali Tipo se li giocassi In questo caso Sarebbero sbagliati Però secondo me Lui un minimo Se ne intende Infatti non li sta Giocando raga Giustamente Va invece con una tronco Di cycle Se io faccio il pecca Se io prendo l'iniziativa Di fare il pecca Uh li ha giocati raga Li ha giocati Sapete che cosa Ci può cambiare il game Io ve lo dico già ora Gli scheletrini evoluti Raga ci possono cambiare il game Perché è il cannoniere lui Quindi se lo prendiamo Con un po' peresire Con la tronco fuori dal cycle Gli scheletrini evo Potrebbero Io intanto li faccio qua Perché comunque Devo difenderli E andiamo a fare un domatore Dall'altra lane E andiamo a fare il cerbotaniere Al centro Ok Ok raga Domatore a torre Mi serve la tronco Mi serve la tronco Non tanto per gli scheletrini Che oramai hanno cucinato Ma per resettare il principino E fare i più danni Esattamente Mannaggia Se non avessi fatto quel cerbotaniere Sarebbe stato meglio raga E forse qua Abbiamo già vinto la partita Vediamo se lui gioca l'abilità La gioca ma è in ritardo Fortunatamente Ok dobbiamo fare anche Gli scheletrini Non posso fare nient'altro Perché mi serve risipare il pecca Esatto No raga Sapete che vi dico Proviamo a difendere senza fare il pecca qua È molto meglio Fidatevi Sì secondo me Abbiamo fatto molto meglio A difendere senza fare il pecca Lui qua giocherà la tronco Quindi gli scheletrini davanti Potevo anche non farli Ok partita equilibrata Peccato prima che non siamo riusciti Subito a fare una tronco Sugli scheletrini evo eh Peccato veramente Perché ci eravamo costruiti La situazione perfetta Per fargli male E infatti abbiamo fatto male Ma non quanto serve Non quanto basta Ok Bene qua Lui va comunque di tronco Allora facciamo gli scheletrini noi E adesso andiamo di tronco E dobbiamo ciclare un altro Cerbottaniere Raga Dobbiamo ciclare un altro Cerbottaniere Ok Vediamo se quel pecca riesce a killare il principino Sì dovrà difendere quindi Uh raga ha spregato Ragazzi che cosa ha fatto Cos'era questa tesla evoluta Ok Tronco qua Non ho fatto subito il domatore Perché sapevo che avrebbe bloccato i maiali eh Sapevo che avrebbe bloccato i maiali Quindi non ho fatto subito il domatore Eh scusate Sapevo che avrebbe bloccato il pecca Furia Furia Domatore infuriato Domatore infuriato Comandaci Stavolta mi sa Oh con un HP raga Con un HP Tronco per il predict Vai 297 HP Pecca Ragazzi il pecca è venuto ancora a metà vita Ma cosa sto vedendo È ancora in vita quel pecca Non muore Non muore raga Non muore Non muore È forte È forte ragazzi Lega 9 Vincendo Penso 9 game Abbiamo perso uno solo Con Domatore pecca 2.6 Io spero Che anche questo video Vi sia piaciuto E Supportate con un like Se siete al canale Ragazzi così che Io continuo a caricarvi Video Quotidiani E Ci vediamo molto presto Con un nuovo video Ciao